ciao ragazzi siamo in collegamento niente poco di meno chieda al primo piano del convento e mi dicevano di andare dall'altra parte o anche io mi voglio adeguare da che mi adeguo pure io tu sei cristiano io sono alex è molleggiabile lui ciao alex ciao fantastico ciao ciao christian ti vedo molto protagonista stasera cosa succede? eh 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 che c'è vasco? no no il compleanno 28 anni ragazzi 28 anni del christian ragazzi 28 anni del christian che incredibile da dove arrivi? da dove arrivi? da da Brescia da dove sei uscito fuori tu dai cartoni di mati sei uscito no christian sei fantastico 28 anni arrivi da Brescia con monopattino no 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 pulmino con Olga pulmino con Olga? con Olga si chi è Olga? è una moldava che mi ha accattato su oscar contato su google ma non vi dico il numero perché non è un po' privata la cosa solo privatissimo gli ultimi tre numeri come il liban ne sono cancellati grazie non fa niente praticamente allora christian 28 anni giusto? si 28 e non sentirsi? no 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 io spiritualmente ne ho ancora 20 spiritualmente? spiritualmente eh più giorni di me più giorni tu quanto ne hai? 21 come mai? eh perché poti miei hanno procreato dopo procreato? però col pota si è spiegato tutto ah christian ritorniamo a christian christian allora come va? allora spegnerai la candelina stasera? ah dai se mi porto la torta hai compreso nel prezzo mi hanno detto fantastico e vedi che brave che avevi visto stanno attenti durante le comunicazioni bravissimo e io sai cosa ti dico? tu spegnerai la candelina come stasera? spegniamo figa se no mentre che hai compreso nel prezzo io altri soldi non li spendo bravo ma ti preoccupare che non sarai? deluso attenzione perché si stanno guardando da casa non so quale casa chissà che stanno combinando allora christian vuoi salutare qualcuno? sì sì saluto a rigo spero che arrivi al mio compleanno perché non so con cosa arriva perché e se arriva rigo vieni al mio compleanno ti aspettiamo figa cioè ti aspetto anch'io rigo christian è bellissimo allora christian noi ti auguriamo un mondo di bene facciamo un applauso a christian è più bello il mio serato grazie a tutti